musica Carina casa tua eh, complimenti muovi si e dimmi un po' ma... con Bedogna com'è andato a finire? oh è lei e rispondi si ciao si che... no cioè sto lavorando ma quando... ma vai tu che... va bene, vado io mi servirebbe un favore si e dovresti prendere un attimino il mio posto tanto hai capito come si fa no? arriva la vittima, gli offri la possibilità della partita a scacchi giochi, vinci e li mandi al creatore tutto chiaro? chiarissimo questo è il trucco di scena e questa è una divisa di riserva non ti preoccupare ci penso io allora eh? si hai un tuo... perché? non ti preoccupare stai nella botte di ferro partita a scacchi, vinco, creatore perfetto allora tu lo sai... tu lo sai chi sono io? no chi sei? l'amore a te ah avanti permesso lo sai chi sono io? un mimo? no ho capito tu sei lo zio dell'america quello che poi aveva litigato col nonno no io sono la morte sei sicuro? eh sì se ho il vestito è che ti facevo un po' più... e meno va 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 senti ti do un'ultima possibilità una partita a scacchi e se... se... e se vinci... vivi e se perdi... no... e così te lo mangio se la metti lì ti mangio la regina e allora io col mio cavallo ti mangio il re hai capito? eh no non si può stai balando arbitro zitto zitto ho capito capito? ti ridò il coso qui e in più mi tolgo un pedone scacco matto ah sì eh sì bene è stato un piacere arrivederci avanti ho detto avanti ah era ora eh lo sai chi sono io? sì la morte allora si capisce e comunque prima di portarti via sì mi offri un'ultima possibilità agli scacchi giusto cerchiamo? sì eh scacco matto ciao ciccio buongiorno 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 cos'è una curiosità ma? come mai qui? secondo te? una gestione di cose ma va cagato scacco matto scacco matto scacco matto incompetente scacco matto matto scopa no 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 grazie simpaticissimi tornate a trovarmi presto scacco matto ti perdo anche da solo allora? quanti ne hai fatti fuori? bravo il mio Hannibal Lecter 100? meno 50 dimmelo 10 5 1 l'avrai fatto fuori non proprio poi gli ho mangiato due piedoni tu mi farai licenziare eeeuuu gsssg uuuh a3 growloc grazie a questa